segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te consumi di gas in italia dallo scoppio alla guerra oggi rispetto allo scorso anno e poco poco l'uso privato in meno vi ricordate draghi che diceva dobbiamo scegliere tra il condizionatore sembra che almeno ad ora sembra che il condizionatore non lo lasciamo perdere termo elettrico più 3 per cento industria meno 7 e 6 caprarica allora innanzitutto un quadro visto dall'inghilterra e poi piano piano ci sposteremo all'economia reale con i nostri ospiti antonio caprarica prego ma visto dall'inghilterra dove mi pare che i dati siano un po più credibili di quelli che ci ha offerto grimaldi la situazione della della russia sotto sanzioni non ne ha fatto la situazione rosa che ci è stata appena dipinta intanto bisogna ricordare anche quando si dice che la russia può vendere a chiunque altro il gas o il petrolio che non è esattamente come vendere un chilo di patate gas e petrolio hanno bisogno di infrastrutture dedicate e i paesi al quali eventualmente la russia cercherebbe di vendere naturalmente non tutti sono provvisti di queste infrastrutture e in ogni caso si è già visto che sul mercato la russia è riuscita a piazzare alcuni milioni di barili con sconti che arrivano fino al 30 per cento quindi ci perde moltissimo ma il rubro si è rafforzato in maniera strepitosa allora spiegherà no un attimo io ti ho spiegato aspetti aspetti ma fammi finire di parlare un momento io sono anche in collegamento abbi la pazienza di farmi finire di parlare finisse e poi interviene prego finisse caprarica il rubro si è rafforzato perché è un'operazione meramente finanziaria e monetaria il rubro si è rafforzato per la semplice ragione che evidentemente il flusso di denaro stavolta arriva a mosca ma l'economia invece è moribonda perché non solo c'è la previsione del crollo del pil del 12 per cento alla fine di quest'anno c'è un'inflazione rampante c'è un tassi di interesse fissato al 20 per cento da noi noi in Russia informati da noi informati informati da noi no informati ma diciamo da noi molto meno che in Russia ora ci arriveremo poi da noi siamo in un circuito mondiale aspettate è difficile parlare se qualcuno ti parla sopra no 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 con clube caprarica il tema dell'inflazione ci arriveremo prego cartello 41 sono numeri che sono forniti dal sindaco di Mosca non da Grimaldi la partenza delle ditte europee significa una perdita per Mosca di 200.000 posti di lavoro attenzione le auto, le fabbriche d'auto sono costrette a tornare ai modelli degli anni 70 questa è la verità della guerra economica che la Russia sta patendo cartello 41 ora vi dico come ci muoviamo partiamo guardate